Sbarca finalmente a Pesaro, in zona tombaccia, Aquaself. Ci trovi in Viarezzo 8, dietro il bar stop. Ti aspettiamo all'apertura di sabato 27 gennaio. E fino al 4 febbraio, tantissime promozioni sui nostri prodotti. Da Aquaself trovi anche cialde e capsule qualità rossa borbone, super scontate. E anche pellet in sacchi da 10 kg. Basta, fili al supermercato. Vieni da Aquaself. Comodo, conveniente. Alla portata di tutti.